Comincio male, debbo smentire il governatore eletto che mi definisce il maggior conoscitore delle norme rotariane, le cose non stanno esattamente così, io so soltanto dove andarle a leggere, qua. Questo è il mio pane quotidiano, in italiano e in inglese. Questa è una commissione di nuovo conio, risponderà a quesiti di natura legale, fiscale e di interpretazione della normativa rotariana, che talvolta assillano i nostri club. Siamo una sorta di punto d'ascolto, un gruppo si interesserà di questioni di natura fiscale e civilistica e ve ne parlerà fra poco Italo Doglio. Ci sarà poi una risorsa dedicata a rispondere sugli adempimenti, mentre il sottoscritto cercherà di assistere i club in caso di problemi di interpretazione delle norme rotariane. Quale sarà il ruolo della squadra in tutto questo? Mi riferisco in particolare agli assistenti. Ascoltare quali dubbi turbano i sogni dei club, cercare di dare una prima risposta e poi girare il problema a noi. Se non ci indirizzate i postulanti, noi non sapremmo cosa fare, non avremmo nulla da fare. Quindi per lavorare abbiamo bisogno di essere alimentati, quindi che qualcuno ci indirizzi le richieste. Questi sono i documenti sulla governance che i rotariani dovrebbero conoscere. Una parte ve li ha fatti vedere anche Francesco poco fa, anzi Francesco vi ha fatto vedere dove si possono trovare. Quelli di sinistra sono i documenti costitutivi del Rotary che possono essere emendati solo dal Consiglio di Legislazione. Il prossimo call si riunirà fra una decina di giorni a Chicago. Ovviamente lo statuto tipo è il pane quotidiano dei club. Dei documenti elencati a destra, quello che interessa di più da vicino è il regolamento raccomandato per i Rotary Club. Il manuale di procedura, eccolo qua. In italiano e in inglese. Non è altro che un raccoglitore che contiene tutti quei documenti, escluso il Rotary Code of Policies, che da solo consta di 450 pagine. Questi, guardateli bene, non li vedrete più, perché il Rotary International non stappa più niente. Francesco vi ha fatto vedere dove si trovano i link per poterli scaricare. Al SIPE fornirò ai presidenti maggiori dettagli sulle norme. Ma che succederà il primo luglio, oltre ad iniziare il nuovo anno sociale? Entreranno i nuovi documenti costitutivi, così come modificati dal prossimo Consiglio di Legislazione. E i club che cosa dovranno fare? Dovranno adottare il nuovo statuto tipo che verrà pubblicato. E' un atto dovuto. Quando viene costituito un club, che si manda l'elenco dei soci, poi in fondo c'è una clausoletta. Il nuovo club si impegna ad adottare lo statuto tipo per i Rotary Club, e successive variazioni. Siccome il Consiglio di Legislazione apporta variazioni, ogni volta i club debbono adottare la nuova edizione. A volte si discute, essendo un atto dovuto, se l'adozione del nuovo statuto è compito del Consiglio direttivo o deve essere convocata la riunione plenaria del club. Forse, forse, con tanti forze, potrebbe bastare il Consiglio direttivo. Ma visto che di statuto non se ne parla mai del club, ma quale migliore occasione per dargli un'occhiata e convocare la riunione plenaria del club? Come dicevo, deve essere semplicemente adottato, non può essere modificata neanche una virgola. Qualche club ha la tendenza di fare il legislatore. Bisogna aggiungere soltanto il nome del club e la sua località. Punto. Il regolamento del club, invece, deve essere aggiornato solo se contiene norme che contrastano con il nuovo statuto, altrimenti può rimanere quello già in vicore. Ovviamente il club, siccome il regolamento è soltanto raccomandato, il club può apportare tutte le modifiche che vuole, sempre in conformità alle altre norme superiori del Rotary. Anche qui molti club hanno la tendenza a leggiferare, a riempirlo di lacci, laccetti, lacciuoli, eccetera, che poi alla fine, dopo un po' di tempo, si ritorcono contro il club. Perché, ad esempio, per la elezione del presidente, se ci mettete tremila clausole, qualifiche, che deve avere il presidente, se non oggi e se non domani, dopo domani, sicuramente non sarete in grado di eleggere il club, non saranno in grado di eleggere il presidente, perché nessuno raggiunge le caratteristiche, le qualifiche dovute. Prima di chiudere, vi rammento un paio di norme, tuttora vigenti, che mi sembra siano cadute in disuso, anche queste domani ne parlerò ai presidenti, segnalare al governatore la frequenza alle riunioni del mese. È una norma contenuta nel regolamento del Rotary International e mai abrogata. La seconda, mettere a disposizione dei soci il verbale delle riunioni del Consiglio entro 60 giorni dalla riunione del Consiglio. In passato, i verbali del Consiglio non circolavano, perché era tutto segreto. Ma quale segreto? I segreti di Fulcinella. Nel Rotary non c'è niente di segreto. Magari se gli assistenti su questo fronte potessero dare un'occhiatina e magari ricordare ai club dopo un po' di tempo che è ricevuto. Ricevuto, ricevuto. Fra l'altro mi sembra di aver letto fra gli emendamenti proposti al Consiglio di legislazione che questi 60 giorni c'è una proposta di ridurre da 60 a 30 giorni il tempo per la compilazione, per la messa a disposizione del verbale. Del resto, 30 giorni sono più che sufficienti per scrivere un verbalino di una riunione che dura un'ora, un'ora e mezza. E per concludere un assist a Italo che mi seguirà fra poco. Il Rotary Code of Policies consente ai Rotary Club di costituirsi in associazione. Penso che questa opportunità risolverebbe qualche problema di natura fiscale e civilistica. Is Italo vi sarà più preciso. Grazie per l'attenzione e a presto.